Buono Ok, forse questo lo riesco anche a demolire Nada, il G dovrebbe averci Questo qui che stava facendo Ok, non lo so Buono, free shot Venga Porca Sfiga Demo Non sono riuscito a demolirlo Lasciamolo tirare Prendiamo il boost Rimaniamo un attimo in porta Ok, questa palla qui ci posso andare io Buona questa parata G dovrebbe avercela Nice Riesci anche a batterlo probabilmente Proviamo a demolire questo qui Non ci sono riuscito Scendiamo E questo qui è nostra Aspettiamo un pochino Tanto non c'è fretta qui di toccarla Saltiamo che voleva demolirmi Fifthiamo questo qui E ora è palla di G Torniamo in porta Qui la controlliamo dal ceiling Lasciamo che scenda Appena questo qui mi challenge Io lo superò così Ma mi ha spinto A culo Boost mio E andiamo dietro a G Che se la perde Se perde Il challenge Sono io Buono, buono Questi bump Buoni, buoni Aspettiamo il tocco Proviamo a demolire questo Ma sicuramente non ce la farò Buono, G dovrebbe andare al tiro Ok, questa è mia La controlliamo di là Andiamo verso il muro Pechiamo il tocco Va bene che lui ce l'abbia Ok, qui ci dovrebbe andare G Buono Non posso andare Aspettiamo il suo tocco Demolito Benvenuti a tutti ragazzi Benvenuti Ok Benvenuti ragazzi Il save è più grosso Ok, quindi quello era l'hashtag Era già stato Trapelato l'hashtag Qualche minuto fa Mio Benvenuti ragazzi Benvenuti a tutti Grazie per il ride Per il raidone enorme Ok, non riesco a toccarla Va bene Il bus c'era lui Adesso si offende Vedete Guardate un attimo Cosa scriverà Vediamo Vediamo cosa si inventa Ragazzi se dovete fare Acquistingame Mi raccomando Usate il codice creatore ReUltras Poi taggatemi nella storia su Instagram Che vi riposto Ok Non ho tanto boost E seguitemi anche su Instagram Mi raccomando Molto importante Metto lì tutti gli aggiornamenti Riguardante live Exceed Cagliari Rocket Bla 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 Specchio Specchio riflesso Ok Vado qui su questa palla 1v1 Proviamo a fregare il salto Andiamo a demolire questo scemo L'ho preso Ma non è esploso Va benissimo Sì vi ti ho fatto Specchio riflesso Io lo infilo nel Specchio a lui Buono Aspettiamo il suo tocco Il boost non è ancora spawnato Questo dovrebbe spawnare mo Questa palla C'è Scusami Ok buono Ti ho distrutto Madonna mia Cosa posso fare ora Ah Cosa È successo Oh Cappazzo Questo qui che challenge Così a caso Riesciamo a demolirlo No Ok Prendiamo questo boost E torniamo indietro Non è spawnato Quindi possiamo prendere questo Però Frantumi Ah G2 Qui ci delizia pure Del suo flip reset Il boost non dovrebbe spawnare A momenti Eccolo qui È mio Buono G Sì qui da me anche A lui Dovrebbe riuscire a tirare Proviamo a demolire qualcuno No look Peccato Ci l'ho passata molto male Dovrebbe riuscire a chiudere Troppo tempo Peccato My bad My bad Tier 1 pagando Grazie mille Con due Adesso un moderatore Dovrebbe contattarti Per inviarti il link Di invito Al gruppo telegram Dei sub Con il quale gestiamo Tutti i sub Dei E tutte le cose Vediamo se riesce a passare Adesso Deco Forse Un gol Ok 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 Let's go Quando lo chiamo Quando lo chiamo Goal a 0 secondi Goal a 0 secondi No Ho già pre-jampato Quindi se in squadra Con Rackings Sono nella stessa società Di Rackings Lui gioca a Fortnite Ragazzi Non gioca a Rocket League Ok Dovrebbe avercela Ti prego Bravo Vediamo se ci va ancora Nice Noi rimaniamo umidi Aspettiamo un pass Perché sta andando a bampare A casissimo Totalmente a caso Ma perché Poi senza dire nulla Cioè non è che scrive Boh Va bene Ok Lui non ci va Boost Ce l'hai vero? Mi sa di no Lo prendo come un no Non riesco a tirare subito Saltiamo questo che vuole bamparmi Ok Buono L'ho fatto demolire come uno stupido Meni xd Giocano anche a Rocket Da un annetto Quindi Sei aggiornato Mi dicono Ok Non riesco più a far nulla Io qui Ok Non posso andarsi Aspettiamo il tocco di questo Aspettiamo Eh devo aspettare un attimo Un po' di rimbalzi Poi ci vado 50 Quanto godo E Kelly non dire che Grazie alla zippy Perché non è vero Perché non è vero Non mi dire che è la zippy Perché Non dire Sono io che sono fortissimo nei 50 Ok Dovrei chiudere subito in porta Aspettiamo il tiro Sempre se tira Ah io ho un po' di difficoltà in aria Mate Quindi cerca di aiutarmi Grazie Ma dove è andato? Cosa sta facendo? Ma che è in stage? Ma per cui ho Ah ma sta laggando Ok sta laggando Sta laggando Non ci arrivo Ok Ok Zippy OP Ma sono io che sono fortissimo Non ho la zippy di Opono Cioè Ce l'hai dai dai No è perché sono andato a prendere il boost Tira Tira Wow ok C'hai la palla lì Vai a tirare Dovrai dire addio a mouse e tastiera Esatto ragazzi Io sto diventando un giocatore da pad Quindi basta mouse e tastiera Ora inizierò a usare Inizierò a usare il pad Aspettiamo il tocco di questo Vediamo se ho un bel clear Ok Andiamo dietro Il mio mid dovrebbe avercela Contro Ok Ok Non posso andarci su Oh che palle le palle aeree Ok proviamo un clear Peccato Mid 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 Non riesco a tirare Unlucky Buono Non posso seguire Vediamo se lascio a mettere la mid Dove Buono Ok non posso andarci Non posso andarci Bravo che ci vai tu Ok Ora posso però provarci Nice Mate girati ti prego Non si gira Boost mio Dovrebbe avercela Bravo Brutta questa palla Buono 1v1 1v1 Ti prego È gol È gol Dai 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 Bravissimo Ti prego Non so andare Kick off Ok Mi sono un attimo panicato E ho fatto il doppio salto A casa Aspetto La madonna La madonna Non riesco a mettere la mid Vero Proviamo a superare questo qui 1v1 Proviamo a demolire Ok Unlucky Così si era molto meglio Il mio mate Qui poteva anche segnare Peccato Ora posso andare al challenge Visto che ha perso il controllo Mate Ti prego Bravo Mamma mia Ha lasciato quel boost Per andare a prendere la palla Che bravo Non riesco a mettere la mid Perché faccio schifo Prego Buono Aspettiamo mid Ok Questa che è mia Oh mio dio Mi ha feccato proprio bene Proviamo ad andarci subito No lo lasciamo Buono La passo mid Per il mio compagno Che tira e fa gol Peccato Boost 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 Grazie No no Le va tirare No Le va tirare Proviamo a demolirlo Ho missato anche il boost Prendiamo questo boost qua Il mio mate dovrebbe girarsi E toccarla Buono Aspettiamo mid Tanto la missa Buono Fake Nell'angolino Peccato Dovrebbe avercela Ti prego Ti prego Ti prego Buono Giuseppe Aggiungimi Aggiungimi Re Ultras Aggiungimi E dimmi il tuo ID Ok Dovrebbe avercela No 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 Sì guarda qua Quanto uno deve essere forte Per vincere Siamo sul serio Dobbiamo perdere Una partita così Giocata anche bene Perché questo qui È un idiota Aspettiamo mid Sì dai va No 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 nel